Si avvicina all'inizio dei play-off, prima di tutto come sta la Tez Ennis? Siamo concentrati, sappiamo che con i play-off la prima sfida è una delle più importanti, per fortuna abbiamo vantaggio casa, quindi io spero che, come tutti i miei compagni di squadra, che sarà un palazzetto pieno e caldo e da lì si parte a vedere come abbiamo fatto il nostro lavoro. Quanto può essere importante avere il fattore campo dalla propria parte? È fondamentale, è una cosa che nei play-off conta, è una cosa che tutto l'anno sta lavorando per, quindi io spero, di nuovo mi ripeto, come i miei compagni di squadra, che possiamo entrare e scendere in campo e dare tutto quello che possiamo dare con l'aiuto del nostro pubblico e dei tifosi che sono il nostro miglior sesto uomo. Qual è la mentalità giusta per affrontare un post-season di questo tipo? Non dare a loro nessuna possibilità di pensare che possono venire qua e vincere, proteggere il nostro proprio campo, far vedere che il cuore c'è, sarà prima partita di play-off, una partita fondamentale per far vedere che la serie qua non ci sta e che Verona è pronta per i prossimi passi. Contro Casale, che serie e che prima partita ti aspetti? Mi aspetto una partita tosta, sarà una partita molto interessante direi, penso che tutte le due squadre saranno ben preparate, nei primi 10-15 minuti avremo tutti un bisogno di leggere come entrambi i squadri sono preparati, e quindi speriamo un grande equilibrio e che noi possiamo fare questo passo in più di proteggere il nostro campo con l'aiuto del nostro pubblico.